Partiti! Partiti! È partita la 21esima edizione della Corrifano. Torna per le colline di Gimarra anche quest'anno la Corrifano. Ci siamo arrivati anche quest'anno, siamo alla 22esima edizione, quindi sabato 23 di settembre avremo la Corrifano sulle splendide colline di Gimarra. Il tempo è previsto buono, quindi fortunatamente la pioggia sarà lontana. Inizieremo con la gara dei bambini, con i 200 metri, poi i 500 con i ragazzi e infine i 1800 con i giovani. A finire la giornata ci sarà la gara degli adulti classica di chilometri 8,4, quindi 8,4 chilometri su tutte le colline, che partirà alle ore 17. Le iscrizioni si ricevono sul posto in via Cena, cioè davanti al campo sportivo di Gimarra fino per i ragazzi fino a 10 minuti prima delle ore 16, per gli adulti fino a poco prima delle 17. Insieme già dall'anno scorso a queste gare ci sarà anche la camminata amatoriale per coloro che non vogliono cimentarsi in una vera podistica, ma solo camminare tranquillamente per le colline. Quindi ci sarà anche questa novità che abbiamo introdotto l'anno scorso e riconfermiamo anche quest'anno. Ecco, per informazioni dove bisogna rivolgersi? Allora, abbiamo il sito cessifano.it oppure la pagina Facebook dove troverete tutte le gare, gli orari, le qualifiche, tutto quello che serve per iscriversi. Inoltre abbiamo una cosa sempre bella che facciamo con la Corifano, cioè devolviamo una parte delle iscrizioni in beneficenza quest'anno all'ante perché dobbiamo dedicarle in memoria di Vasco Oliva che era uno degli organizzatori e collaboratori storici della Corifano. Abbiamo Marco Ercoli, bravo Marco Ercoli. Grazie a tutti.